Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Superano quota 30 i ricoveri in terapia intensiva e sono più di 300 quelli nelle aree mediche per Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Numeri in crescita rispetto alle scorse settimane che fanno temere che l'onda lunga delle positività sia arrivata nuovamente a toccare le aree mediche. 30 pazienti in terapia intensiva Covid e 308 nelle altre aree mediche. Toccano tristi vette le ospedalizzazioni in Friuli Venezia Giulia, ultimo parametro scelto dal governo per valutare i cambi di colore delle regioni. I livelli di guardia per la zona arancione sono ancora abbastanza lontani, ma quello registrato nelle 24 ore successive al Capodanno è la prima inversione di tendenza di un dato che era rimasto stabile praticamente per tutta la seconda metà del mese di dicembre. Nelle ultime 24 ore si è fatto registrare un numero più basso di positivi, 453, molto lontani dagli oltre 2.000 quotidiani di settimana scorsa, ma che va letto attraverso il più basso numero di tamponi sia molecolari che antigenici. Sei invece le vittime, di cui la più giovane è una donna di 73 anni deciduta in ospedale a Trieste. A far paura però, oltre alle ospedalizzazioni, sono i positivi tra il personale sanitario, medico e amministrativo delle aziende sanitarie regionali. Anche per questo la regione ha virato verso una quarantena light per i vaccinati in terza dose, per evitare di paralizzare la sanità come il resto del mondo del lavoro. A Trieste sono presenti il triplo dei contagi di Udine, mentre l'area del Pordenonese è quella più colpita. Sono solo quattro i comuni covid-free in regione. Vediamo. Sono quattro i comuni attualmente covid-free in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di Comelians, Donia, Preone e Andreis. A dirlo è la mappa del contagio aggiornata ieri dalla protezione civile. L'andamento del virus in regione è a macchia di lopardo. I territori dove l'indice di prevalenza si fa più scuro, ovvero dove la presenza del covid è più marcata rispetto agli abitanti che risiedono in quel luogo, sono Morrupino, Travesio, Savonia di Sonzo, Rive d'Arcano, Treppo Grande, Frisanco, Raveo e Valvasone Arzene. I focolai sono più attivi nei grandi centri urbani, sempre sul podio. Per numero di contagi rimane Trieste. Il capoluogo regionale attualmente conta 2.455 cittadini positivi al coronavirus. Quasi il triplo dei casi presenti nel capoluogo fiulano, al secondo posto, per numero di infezioni in regione. Udina ad oggi conta 859 casi. Terzo gradino invece per Pordenone, con 518 positività, ma che è un Interam più colpito rispetto a quell'udinese. Quarta posizione per Gorizia, con 404 casi, seguono poi Sacile, con 315, Monfalcone, con 265, Azzano Decimo, con 259. Gli altri comuni più colpiti in ordine sono Cordenons, 194 casi, Codroipo, Tavagnacco e Maniago, con 152 positività in atto. La capacità vaccinale viene potenziata in tutta la regione, con l'apertura di hub vaccinali temporanei, soprattutto per le dosi di richiamo. A dirlo il vice governatore Riccardi. Vediamo. All'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale si vedrà aumentare la capacità di somministrazione di oltre il 20%. Le sedi su cui sono previsti gli allestamenti degli hub vaccinali sono Manzano, da martedì 11 a domenica 16 gennaio, Latisana, da martedì 18 a domenica 23 gennaio, Codroipo, da martedì 25 a domenica 30 gennaio. In pochi giorni abbiamo sviluppato un potenziamento dell'offerta vaccinale che permetterà di far fronte in maniera efficace al fabbisogno legato soprattutto alla dose di richiamo su tutto il territorio regionale. A dirlo il vice governatore del Friuli Venezia Giulia, con della Gala Salute, Riccardo Riccardi. Anche l'azienda sanitaria Friuli Occidentale ha già distribuito l'attività sul territorio. Incrementate le attività dei centri al più 30%, a San Vito il Tagliamento, il centro vaccinale sarà aperto 7 giorni su 7 con le domeniche dedicate alle vaccinazioni pediatriche, come anche a Maniago. Quanto riguarda l'azienda sanitaria universitaria Giuliano e Zontina, attualmente l'operatività è su quattro hub vaccinali che garantiscono un totale di 3.800 vaccinazioni al giorno. Rimangono attivi per tutto il mese di gennaio, due pomeriggi a settimana, per le inoculazioni a Grado e Cormons. Sospensioni da lavoro anche per i vigili del fuoco del comando di Udine e dei distaccamenti. Il 10% dei pompieri dipendenti non ha seguito l'iter vaccinale contro il Covid. Si ricorre a personale vaccinato in straordinario a pagamento. Meno 10% dei vigili del fuoco in servizio nel comando di Udine e nei distaccamenti da Tarvisio alla Tisana, a seguito della procedura di sospensione attivata per quei dipendenti che dal 15 dicembre scorso non si sono adeguati alla normativa nazionale di contrasto alla pandemia da Covid-19. Per i pompieri quindi che non hanno seguito il percorso vaccinale obbligatorio non è più possibile prestare servizio. Le loro assenze, spiega il comandante provinciale di Udine, Giorgio Vasile, vengono coperte da personale vaccinato in straordinario a pagamento per garantire i numeri minimi di personale per tutta l'area di competenza del comando di Udine. Al momento non si riscontrano criticità. In caso di necessità per l'area del capoluogo friulano scendono in campo i pompieri del distaccamento di Civitale del Friuli. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha convocato per il 24 gennaio la prima votazione del Presidente della Repubblica. Piero Mauro Zanin traccia un identikit, figura in grado di unire il Paese. La data da cerchiare in rosso è quella del 24 gennaio alle 15, quando il Parlamento sarà convocato in seduta comune per la prima votazione del nuovo Presidente della Repubblica che subentrerà Sergio Mattarella. Il Consiglio regionale sarà convocato la settimana prossima. I giorni li decideranno i sette capigruppo, con il compito di indicare i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. Si sceglieranno tre nomi, ogni consigliere dovrà indicarne due e la strada sembra tracciata con Massimiliano Fedriga, Piero Mauro Zanin e per le opposizioni Sergio Bolzonello. Da tradizione, spiega il Presidente Piero Mauro Zanin, si scelgono il Presidente della Giunta e del Consiglio e poi l'esponente più rappresentativo del gruppo più numeroso della minoranza. Diciamo che se i rumors dovessero essere confermati dal voto, ci sarebbe un equilibrio sia territoriale, con Udine, Pordenone e Trieste, sia politico. Ancora presto, invece, per il nome del nuovo Presidente, il candidato più forte, spiega Zanin e ovviamente Mario Draghi, ma stanno arrivando a pelle affinché prosegua la guida del Governo. Diciamo che siamo in alto mare. Non faccio nomi, ma è importante che, in questo momento di divisione del Paese, sia una figura di unità in grado di rappresentare i principi di libertà, giustizia e uguaglianza alla base della Costituzione, come indicato dallo stesso Mattarella. Tutti i Pignerul della Conca Tarcentina saranno accesi in piena sicurezza, con distanziamento e controllo del Green Pass. Falò, quindi, a sorpresa, nelle frazioni e sui monti. Oltre 15 le pire pronte a essere incendiate. Ce lo spiega il Presidente della Proloco di Tarcento. Vediamo. Siamo giunti quest'anno alla 94esima epifania qui a Tarcento e, purtroppo, per il secondo anno avremo molte limitazioni. È previsto solo il passaggio di Catina e la Befana alla mattina per i bimbi, ma una cosa molto veloce, evitando assembramenti, e l'accensione del Pignerul Grande alle 19 e di tutti i Pignerul della Conca Tarcentina, senza pubblico e nella massima sicurezza e comunità di Green Pass. Sono state fatte delle riunioni con i Pignerul che si sono dichiarati tutti disponibili ad osservare le disposizioni prefettizie e quindi noi siamo sicuri che verranno rispettate. Noi avevamo il totale di 12 Pignerui, però abbiamo tre Pignerui non solo di nostro comune, ma di Lucevera, di Magnano e di Montenars. Quelli di Tarcento verranno accessi alle 19 del giorno 6 gennaio. Siamo alla cronaca. Il cadavere di un uomo di 35 anni è stato trovato stamattina verso le 8 nel parcheggio interrato di un centro commerciale di Via Giulia a Trieste. Gli investigatori mantengono il più stretto riservo sulle indagini. A quanto si apprende a rinvenire il corpo è stato il personale addetto del parcheggio. Sul posto sono giunti il magistrato di turno, i sanitari e il medico legale. Quando è stato trovato, l'uomo era già morto presumibilmente da qualche ora. Non si escluderebbe una morte a causa di un trauma. Perde il controllo della sua Golf che si schianta contro un muretto. L'auto è praticamente distrutta, ma lui se l'è cavata con qualche lieve ferita. È successo la scorsa notte a Gemona in Via Armentaressa, protagonista un giovane di 21 anni della zona. Era solo in macchina ed è stato portato in ospedale a Udine. Brutta avventura per una goriziana la notte scorsa in Sardegna. La donna, 55 anni, residente a Gorizia, è uscita per un'esclusione su un sentiero cai sui monti dei Sette Fratelli a Burcei, quando ha perso l'orientamento a causa del buio. La donna è riuscita a dare l'allarma ai carabinieri con il suo telefonino, ma è caduta la linea e poi è rimasta isolata. La zona è stata anche sorvolata da un drone con una camera infrarossi. Durante la notte le comunicazioni fra la dispersa e i carabinieri sono riprese e la donna è stata così raggiunta dalle squadre del soccorso alpino e dopo una verifica delle sue condizioni di salute è stata accompagnata a Quartu. Nel 2021 il Covid non ha fermato le compravendite di beni immobili che a Udine e dintorni sono cresciute del 16% rispetto all'anno precedente. Vediamo. Il Covid non ferma il mercato immobiliare. In provincia di Udine nel 2021 le compravendite hanno avuto un incremento del 16% rispetto all'anno precedente. Il valore degli immobili che è cresciuto in media tra il 5 e il 10% in centro città varia da 3.000 a 3.900 euro al metro quadro con punte che arrivano a 5.000 per nuovi o ristrutturati. Ma si scende a 1.600-3.000 euro per uno in buone condizioni, a 1.000-1.200 per uno da ristrutturare. Abbiamo riscontrato una diminuzione su quello che sono gli acquisti degli appartamenti, tipo del mini appartamento, che è stimato sul 3%. Vendite dei bicamere circa come tipologia nel 2021 sul 20%. I tricamere sono quelli che hanno subito una maggiore richiesta. Nel biene spontaneo è solo un 17% su quello che sono le vendite della ville e delle case. Il problema è che mancano proprio questi immobili. Importante riconoscimento per Paolauro e per tutta la regione. Da pochi giorni Paolauro è diventato villaggio degli alpinisti, è il sesto in Italia e il trentottesimo in Europa. In primavera la visita della Commissione europea che ha deciso di concedere il prestigioso marchio. La Valle Incaroio sarà il primo villaggio degli alpinisti della regione Friuli-Venezia-Giulia. Il sesto in Italia e il trentaseiesimo in tutta Europa. I villaggi degli alpinisti sono quindi piccole località caratterizzate da una ricca tradizione alpinistica, da un'elevata qualità ambientale e paesaggistica, che si distinguono per l'impegno nel conservare, nella conservazione dei loro valori naturali e culturali. Il riconoscimento di questo marchio rappresenta una prova delle ottime qualità naturali, paesaggistiche, culturali e alpinistiche di Paolauro che attraverso boschi, malghe, pascoli e sentieri Paolauro offre ai visitatori. Siamo allo sport. Sarà il 16 gennaio la data della ripartenza per i campionati dilettanti. Lo ha assicurato Hermes Canciani, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Friuli-Venezia-Giulia, che però ha chiarito che se ci dovessero essere le condizioni si potrà slittare di una settimana. Per quanto riguarda invece le giovanili, si tornerà in campo il 6 febbraio. Noi abbiamo, secondo me, abbiamo deciso, e l'abbiamo fatto appena prima di Natale, di dare qualche giorno in più per i settori giovanili. Ricominceremo l'attività ufficiale il giorno 6 febbraio. Il 6, secondo me, è una data corretta, perché abbiamo la possibilità di vedere come va il ritorno a scuola da parte dei nostri ragazzi. Abbiamo tutto il tempo per capire se ci possono essere delle situazioni che, logicamente, vanno a inficciare questa nostra data. E quindi il 6 febbraio per i settori giovanili è una data, secondo me, corretta. Per i dilettanti, vedete, noi abbiamo avuto due gare, due gare, che sono state praticamente rinviate per Covid. Ricordo, ricordo che rinviare per Covid significa avere, nella propria gruppo squadra, cinque o più persone che sono considerate o positive o stanno in quarantena. Allora, considerato che sono state solo due, e considerato che la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi è vaccinata, io credo che la data del 16 di gennaio sia una data corretta. Però, siccome non siamo ottusi, e anche ieri questo è stato un motivo di discussione all'interno del gruppo dei presidenti e dei comitati regionali, se ci dovesse essere la possibilità, noi andremo, logicamente, a prenderci ancora la settimana che ci serve o i 15 giorni. Ricordo che però, per l'eccellenza, trattandosi di un campionato di interesse nazionale, anche se, e questo non succederà mai, dovessimo ritornare in zona rossa, loro comunque devono giocare. Il telegiornale termina qui, ma se volete rimanete con noi, perché dopo la pubblicità c'è a voi la linea. Il telegiornale termina di interesse nazionale,